Da bufera a tempesta, ci ha messo poco il caso Lomonaco-Salarnitana a diventare tale, alimentato in questo senso dalle bacchettate del Presidente Pulvirenti all'amministratore delegato che oggi pomeriggio, come anticipato da Telecolor, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Presidente si è permesso di dire che io mi starei preparando un'eventuale alternativa e consentitemi, questo mi fa veramente ridere, perché se il sottoscritto si fosse mai preparato un'alternativa, in questi anni non sono né mancate le offerte importantissime e prestigiose, mai. Allo Monaco non sono andate giù quasi tutte le dichiarazioni di Pulvirenti, una in particolare. Il Presidente del Calcio Catania, Antonino Pulvirenti, ha detto che lui non sapeva niente di questa storia della Salernitana, ha tirato fuori la storia della Salernitana. Non è vero, sapeva tutto dal primo momento. E poi alla gente voglia, non so che messaggio abbia voluto lanciare in un momento come questo, che è un momento di preparazione, penso che dovrebbe chiarirlo lui stesso. Pulvirenti quindi, secondo lo Monaco, era perfettamente a conoscenza dell'operazione Salernitana. Lecito pertanto, attendersi una replica dal Presidente almeno su questo punto. Per un senso di responsabilità, lo Monaco ha annunciato che completerà le operazioni di mercato già avviate. A seguito di questo trambusto, che non ha comunque i crismi di un fulmine al ciel sereno, passa quasi inosservata l'amichievole che il Catania disputerà domani sera, inizio ore 20 locali, a Cipro con l'omonia di Nicosia. Per la prima uscita della stagione sarebbe stato auspicabile un clima migliore.